Avola ha i domiciliari 66enne, spacciava droga, trovato con hashish, recampi di clienti e nove colpi di pistola. Già gli arresti domiciliari continuavano a spacciare sostanze stupe pacienti. Carabinieri della Lico, Radio Mobile della Compagnia Carabinieri di Noto e della Stazione di Noto hanno arrestato un 66enne di Avola. I militari, dopo le attività di verifica circa rispetto della misura cautelare, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo rinvenendo oltre 90 grammi di hashish, circa 25 grammi di sostanze da taglio, un bilancino di precisione materiale per il confezionamento, una contabilità dell'attività delittuosa e appunti con i recampi dei clienti. La perquisizione è stata successivamente stesa a un veicolo in disuso ma riconducibile all'arrestato e ha consentito di sequestrare anche nove colpi di pistola di cui quattro già esplosi. L'uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria a Redosea.